Amici di Cusano Italia TV buonasera benvenuti a questa nuova puntata di crimini e criminologia anche oggi tanti temi da approfondire e direi di andare subito a vedere però quello che è il primo titolo di oggi strage di Rigopiano le richieste dell'accusa le arringhe della difesa ne parleremo tra poco vado a presentare anche i nostri ospiti ci sono stati finalmente degli sviluppi per un processo lunghissimo per un fatto che risale lo ricordo al 18 gennaio 2017 a Rigopiano località nel comune di Farindola in Abruzzo una slavina staccatasi da una cresta montuosa sovrastante investì l'albergo Rigopiano Gran Sasso Resort causando 29 morti si trattò della valanga che causò il maggior numero di morti di sempre sulle montagne dell'Appennino e la seconda più disastrosa per numero di morti in Europa dopo quella di Galtur che nel 1999 causò 31 vittime naturalmente le arringhe della difesa e poi soprattutto le richieste dell'accusa sono arrivate la settimana scorsa 24 25 novembre e poi il 26 novembre c'è stata la tragedia di Ischia di Casamicciola c'era già stata la tragedia nelle Marche purtroppo in questo fine settimana a Barcellona Pozzo di Gotto abbiamo assistito nuovamente a una natura che si ribella quindi la mente ci ha riportato a quella tragedia di Rigopiano causata da una valanga che ha travolto un albergo che lì non doveva stare e a proposito della natura che si ribella voglio ricordare in apertura e vedere anche quello che è l'articolo riportato su tag24.it il quotidiano online dell'università Niccolò Cusano del Cusano Media Group ecco vedete proprio Stefano Bandecchi che è coordinatore di Alternativa Popolare ha commentato la tragedia di Ischia che ha coinvolto il comune di Casamicciola dicendo condoni edilizie di sestro idrogeologico la politica se ne assuma la responsabilità e cambi rotta quanto avvenuto a Ischia è solo l'ennesima tragedia a cui abbiamo assistito negli ultimi anni oggi è la campania alcune parti politiche come il movimento 5 stelle che firmò il condono per Ischia oggi si sottraggono alle loro responsabilità la verità però è ben più amara tutta la classe politica alla responsabilità dello stato di distesto idrogeologico in cui versa il nostro territorio prevenzione manutenzione leggi severe non portano voti aggiunge Bandecchi e dunque nessun partito mostra interesse verso il tema se non dopo una tragedia i fatti però sono sotto gli occhi di tutti il nostro territorio è in difficoltà e lo sarà sempre di più per effetto dei sempre più frequenti fenomeni avversi determinati dai cambiamenti climatici ecco perché abbiamo detto la natura si ribella si è ribellata nel caso di Rigopiano così come in tanti altri casi il più recente proprio quello di ischia e di casa micciola ma adesso andiamo a presentare i nostri ospiti in studio uno degli avvocati delle vittime della tragedia di Rigopiano gli avvocati di parte civile chi segue crimini e criminologia magari lo conosce perché già intervenuto in altre puntate lo ritrovo con piacere l'avvocato Romolo Reboa buonasera e poi un altro avvocato sempre della parte civile un altro avvocato che andiamo invece a conoscere questa sera l'avvocato Gabriele Germano buonasera la regia affidata ad Alessio Tancorra avvocato Reboa dedicamo una puntata a Rigopiano nel febbraio scorso la situazione era ancora tutta in alto mare poi già a giugno quando ci torniamo qualcosa si stava si stava muovendo però io ho ricordato parliamo del 2017 e siamo adesso a un processo che si sta in qualche modo no avviando verso la conclusione è passato tanto tempo ma qualcosa finalmente si è mosso il covid sicuramente no lo disse la volta scorsa non ha aiutato però ci siamo quando potrebbe arrivare come quelli che sono i tempi diciamo per arrivare a una sentenza? Le previsioni sono fine febbraio 2023 questo dovrebbero essere previsioni a mio avviso forse sarà un mese in più un mese e mezzo in più ma diciamo che siamo in direttura d'arrivo il ministro ha fatto le proprie arringhe le parti civili quasi tutte eccetto pochissime le faranno la prossima settimana tra il 13 e il 16 dicembre dopodiché la parola passerà alle difese secondo me i tempi che sono stati calcolati per le difese sono stati un pochino ottimisti poi ci potrebbero essere delle repliche ma insomma diciamo che la parola fine in questo momento si vede anche perché contrariamente a prima sono state organizzate delle udienze che durano dalla mattina alla sera vengono fatti tre giorni di udienze si sta celebrando il processo come si sarebbe dovuto celebrare all'inizio se si fosse celebrato all'inizio con queste modalità avremmo finito già da due anni vogliamo ricordare intanto avvocato a proposito della parte civile ricordo quello che è il rebo lo ferme a proposito dello studio che si sta occupando i nomi delle famiglie per cui appunto rappresentate la parte civile anche per ricordare no poi diciamo noi noi rappresentiamo la famiglia tanda la famiglia ciccioni la famiglia tinari e la famiglia martella sono quattro famiglie tre ragazze e un uomo che non ci sono più e io ricordo ovviamente i nostri telespettatori che potete interagire con noi nel senso potete partecipare anche voi direttamente alla trasmissione inviando messaggi via sms o attraverso whatsapp per porre domande ai nostri ospiti o per dire semplicemente la vostra vedete già in sovraimpressione il numero 334 92 29 505 334 92 29 505 sms whatsapp scrivete poi la redazione naturalmente provvederà a selezionare i messaggi che si possono ovviamente leggere in diretta e me li girerà qui direttamente allo studio uno di cusano italia tv e rivolgeremo poi le eventuali vostre domande ai nostri ospiti l'avvocato caprile germano invece ne parlavamo nel backstage avvocato lei si occupa prettamente di altri aspetti legati all'urbanistica che comunque sono fondamentali una storia del genere anche lei nell'incipit della rasmissione ha fatto riferimento qui c'è un evento valanghivo ma non dimentichiamoci che rigopiano è il crollo di un edificio e come io ho detto al tribunale pescara la settimana scorsa un edificio è il risultato di un'attività umana un'attività umana che secondo le leggi dello stato della repubblica italiana si deve dipanare su una serie di percorsi burocratici amministrativi che non sono messi lì tanto per allungare tempi o per comportare a carico del privato del richiedente delle attività oltrone ma sono fatte per contemperare l'interesse in questo caso l'interesse economico della proprietà dell'albergo con le esigenze di tutela e garanzia del territorio disaminando tutta l'attività svolta dal nipaf di pescara con riferimento alle permessi e autorizzazioni rilasciate con riferimento all'ampliamento dell'albergo sono emesse una serie di comportamenti in contrasto con tutte le norme tant'è che noi l'abbiamo definita l'ampliamento e la realizzazione di questa spa un rosario di legalità ci sono una serie di omissioni poi se casuali o meno questo non è stato focus dell'attività di indagini né oggetto principale del processo ma tanto per dirne una il tecnico comunale che è uno dei principali imputati ben sapendo che la zona dove insisteva il loterico piano ai sensi del reggio decreto 3267 del 1923 era una zona a rischio idrogeologico e quindi rispetto alla quale nel rilascio di permessi a costruire dovevano essere richiesti prima al corpo forestale poi dal 2013 alla regione abruzzo uno la ossa idrogeologico tutto questo nel permesso a costruire per l'ampliamento della struttura del 2006 non venne fatto mentre tanto per dirne una come a situazioni simili siano stati adottati comportamenti diversi il classico due peti e due misure in epoca coeva all'ampliamento della struttura quindi nel 2006 per un'opera tutto sommato secondaria un dislocamento di un tracciato stradale nel comune di farindola il medesimo tecnico comunale imputato nel processo di ricopiano forse uno dei principali imputati invece aveva chiesto al competente ente il rilascio del permesso idrogeologico tutto questo poi si è evoluto in una serie di ulteriori passaggi che hanno comportato il totale contrasto della struttura a tutti gli strumenti urbanistici vigenti ivi compresa la spa che diciamo la realizzazione della spa ha comportato sicuramente una maggiore esposizione in termini di rischio delle vite perché consentendo un'attrazione turistica quindi una maggiore attrattiva ha fatto sì che fosse l'attrazione principale del complesso alberghiero il motivo per quale veniva visitato sempre da maggior numero clienti e purtroppo anche da quelle dai clienti alcuni dei familiari delle famiglie che rappresentiamo e allora adesso dopo aver sentito gli avvocati di parte civile riassumiamo quello che è avvenuto proprio sul finire della settimana scorsa con le arlinghe proprio nella parte civile ma ovviamente anche quelle che sono state le richieste dell'accusa il servizio di lorenzo capezzuoli ranchi e di aurora vena andiamo a vedere 30 imputati per una strage che causò 29 morti e il dito è puntato contro la prefettura e la provincia la tragedia è quella dell'hotel rigopiano di farindola travolto il 18 gennaio di 5 anni fa da una valanga 12 anni per l'ex prefetto di pescara francesco provolo 11 anni e 4 mesi per il sindaco di farindola ilario lacchetta 6 anni per l'ex presidente della provincia di pescara antonio di marco sono alcune delle richieste di condanna formulate dalla procura di pescara l'accusa al termine della requisitoria ha inoltre proposto per bruno di tommaso gestore dell'albergo e amministratore e legale responsabile della società gran sasso resort spa la pena di 7 anni e 8 mesi per il pm andrea papalia ci furono ritardi nella prefettura di pescara nel coordinamento dei soccorsi sottolineando i ritardi nell'apertura della sala operativa e nel centro coordinamento il magistrato ha segnalato discrepanze tra le comunicazioni che la prefettura diede al governo e l'effettiva operatività del coordinamento dei soccorsi il procuratore capo di pescara giuseppe bellelli ha sottolineato invece l'inefficienza grave della prefettura che lascia cadere nel vuoto una richiesta di aiuto la procura sostiene che tra gli imputati accusati di depistaggio a vario titolo nonostante fossero stati sollecitati a fornire agli investigatori ogni elemento utile alle indagini avrebbero messo di riportare nelle loro relazioni le segnalazioni di soccorso che il 18 gennaio 2017 erano pervenute in prefettura in particolare da parte del cameriere gabriele d'angelo una delle 29 vittime inoltre ognuno per quanto di competenza sempre secondo l'accusa avrebbero cercato di nascondere agli inquirenti anche i brogliacci con le chiamate in arrivo il procuratore nel corso della requisitoria ha sottolineato che la ricerca delle responsabilità è dovuta alle vittime e alla verità questo è il servizio a proposito proprio degli ultimissimi sviluppi del processo per la tragedia di Rigopiano l'avvocato Romolo Reboa seguendo la linea del PM sulla necessità di capire le ragioni degli eventi ha richiamato degli atti processuali deducendo che una diversa lettura di alcune operazioni economiche avrebbe potuto contribuire al raggiungimento della verità questo hanno riportato le agenzie vogliamo spiegare meglio avvocato ma diciamo che noi abbiamo svolto delle attività di indagini difensive personali chiedendo l'acquisizione di un fascicolo al fascicolo processuale che è il fascicolo del fallimento del rosso sulla base di questi elementi che abbiamo rinvenuto nel fascicolo del rosso e seguendo una linea dettata da parte della pubblica accusa cioè quello di cercare di capire le ragioni degli eventi abbiamo dato una lettura di alcuni atti abbiamo anzi voluto solicitare l'attenzione del magistrato su alcuni eventi che portavano una disponibilità di denaro a nostro avviso eccessiva da parte dell'organizzazione dell'hotel e noi abbiamo rappresentato che diciamo certi passaggi certi momenti leggendo integrati agli altri a tutti quelli dell'accusa avrebbero dovuto portare per alcuni imputati anche un'accusa più grave cioè quello del dole eventuale che ovviamente non essendo stata formulata dai PM in assenza all'epoca del momento della formulazione dell'accusa quindi non è una polemica nei confronti della procura dei documenti che abbiamo introdotto noi facendo l'acquisire dalla procura abbiamo segnato noi era un processo così imponente ognuno vede degli aspetti seguendo questo aspetto diciamo per alcune persone avremmo aspettato diciamo delle richieste di condanne quindi una coscienza di un grado di responsabilità ancora più grave questo abbiamo detto al fine di far sì che un magistrato che essendo un'udienza preliminare un giudizio abbreviato sarà un unico magistrato in camera di consiglio tenesse conto anche di questi fatti nella formulazione delle pene perché poi è questo e di risarcimento del danno perché poi purtroppo poi la parte resa purtroppo la vita delle persone poi si deve qualificare in termini di denaro anche se in vicenda di questo genere parare di soldi è una delle aberrazioni però questo è il sistema del processo civile che si innesta nel processo penale nel diritto italiano intanto avete rivisto in sovraimpressione 334 92 29 505 il numero per ricevere i vostri messaggi sms o whatsapp la redazione mi ha segnalato che state scrivendo in tanti però sono soprattutto messaggi di solidarietà nei confronti di chi ha perso tanti affetti a proposito della tragedia di cui stiamo parlando la tragedia di rigopiano per tornare a appunto a quelle che sono state le arringhe della parte civile invece per quanto riguarda l'avvocato Gabriele Germano le agenzie hanno parlato di polemiche anche vivaci avvocato le vogliamo ricordare per chi non abbia magari seguito bene la settimana scorsa ma io personalmente rifacendomi a poi che erano gli atti di indagine quindi non ci sono state fatte valutazioni ma ci si è tenuti poi elementi documentali e cristallizzati incontestati ho fatto riferimento a come la struttura fosse completamente abusiva quindi non dovendo sorgere non dovendo essere lì poi si sono verificate le condizioni per cui 29 persone purtroppo sono venute a mancare per una valanga ma una valanga che ha compito un complesso alberghiero che per una serie di vincoli di natura idrogeologica il fatto che ricadesse per il piano regionale paesistico della regione abruzzo in un'area a conservazione integrale a uno quel la destinazione d'uso turistico alberghiero non era consentita in quel sito che era un sito che aveva anche delle caratteristiche di rischio sismico perché medio tempore con delibera della giunta della regione abruzzo del 2003 comune di farindola viene inserito nella zona a rischio sismico di seconda categoria ove la prima categoria è il massimo rischio possibile e la quarta categoria invece è il rischio più attenuato comunque meno importante ecco tutte queste indicazioni non solo non sono state prese in considerazione negli interventi di ristrutturazione di ampliamento e di realizzazione della spa ma addirittura io ho argomentato come il comune di farindola che già si era dotato di un piano regolatore con abnorme ritardo cioè nel 1978 quando l'obbligo di adozione vigeva dal 42 aveva commissionato nel 1996 una una la revisione e la redazione di un nuovo piano regolatore generale che avrebbe dovuto tener conto perché venne dato in carico a un geologo di mappare tutta la zona con i conseguenti rischi e le valutazioni di carattere geologico e geomorfologico annesse in particolare il geometra incaricato riferì che questa zona era a carattere sismico riferì anche proprio riferimento a valanghe un episodio valanghivo nel bacino del antistante il montesiella che poi è la zona limitrofa a dove si è verificata la valanga tutte queste considerazioni non sono state tenute presente alla data della tragedia quindi dopo circa dopo 22 anni il piano regolatore è rimasto ingiustificatamente silente tanto che alcuni consiglieri comunali in seno al comune di Farindola hanno promosso un esposto alla corte dei conti dell'Aquila questa è la situazione che fotografa o meglio grazie agli inquirenti fotografa l'abusivismo e il contrasto del complesso alberghiero agli strumenti urbanistici sia a livello comunale che a livello sovracomunale quindi ente parco provincia e regione abruzzo oltretutto dicevamo quando abbiamo appreso la terribile notizia di quello che era avvenuto a ischia a casa micciola in questi casi poi il pensiero torna sempre a tragedie scatenate dalla natura natura però in questi casi sollecitata se vogliamo usare questo termine dall'uomo e proprio a proposito di questo l'avvocato Rebo ha dichiarato devo constatare amaramente che la valanga di casa micciola purtroppo confermato che la natura prima o poi si vendica delle violenze al territorio per me è impressionante la contemporaneità tra quelle a ring e il disastro di ischia e prima nel backstage abbiamo detto avvocato entrambi abbiamo avuto diciamo lo stesso spirito giornalistico nel collegare ischia a rigopiano e infatti abbiamo poi dato per organizzare questa prima parte della puntata di oggi no ma guardi scenari diversi ma mare montagna i scenari diversi ma è stato un qualcosa che mi ha colpito e io ho visto diciamo in tutte e due le montagne in mezzo sostanzialmente siamo creato una sorta di pista era la pista dove era caduta la valanga e la pista dove era caduto il fango e sotto gli esseri umani come vi dirvi cioè questo è stato scenario molto simile su ischia anche abbiamo delle immagini poi possiamo metterle in parallelo prego infatti guardi questa è la situazione certo poi l'udienza di venerdì è stata un'udienza combattuta polemica nella quale sostanzialmente forse perché hanno state citate delle carte processuali non molto conosciute da parte di tutti quanti i colleghi perché era stato molto queste rischie tanto per sottolineare era stato molto difficile acquisire è stata anche questo qui una frutta di una battaglia questo sicuramente diciamo quel pensiero siamo usciti stressati da quell'udienza siamo stressati è stata veramente una battaglia dialettica corretta che abbiamo fatto con il cuore e volevamo dimostrare che la linea che aveva il messaggio che aveva dato la procura della repubblica che bisognava capire gli eventi abbiamo cercato di capirli e sappiamo che forse capendoli diciamo abbiamo detto delle cose che non erano gradite per carità sappiamo che insomma il ruolo delle parti civile non è dire cose gradite ai difese degli imputati talvolta poi quando vai a toccare delle responsabilità potenziali o delure delle responsabilità di una persona che è anche deceduta e queste sue responsabilità diciamo ha pagato con la vita a nostro avviso i propri errori o altro allora sicuramente diciamo dal punto di vista umano è estremamente difficile affrontare questi processi però si può dire che una persona perché è morta non è più colpevole questo è uno dei problemi che in crimine e criminologia credo che abbia affrontato più di una volta perché purtroppo succede che un colpevole perda la vita specialmente quando i reati comunque sono natura colposa perché lo stesso anche dove eventuali in determinato tipo di situazioni aggrava la posizione processuale si fa ritenere assolutamente che quel rischio non ci sarebbe stato vai a ritenere che non ci sarebbe stato non stiamo parlando di persone che sono dei criminari o che volevano che volevano la morte delle persone sono delle persone che hanno sfidato la natura in una situazione di illegalità diffusa che è esattamente la stessa identica situazione che noi vediamo ad ischia ma è la stessa identica situazione che spesso e volentieri a roma vediamo con la situazione delle macchine parcheggiate dovunque e poi magari che ti nascondo un angolo di visuale che ci dovrebbe essere poi quando ci scappa un incidente c'è una globalità di situazione che tante volte viene nascosta e chiudiamo qui il primo capitolo di crimine e criminologia giustamente l'avvocato Rebbo sottolineava proprio questo a crimine e criminologia ne parliamo perché è chiaro che nessuno voleva che si verificasse quello che purtroppo poi si è verificato a casa micciola come a rigopiano come tante volte diciamo che la storia è lunga di queste tragedie nella storia del nostro paese che vive una situazione di dissesto idrogeologico totale di edifici esposti continuamente a rischio ne parliamo perché comunque sono dei crimini così come poi sono stati commessi anche in occasione di tanti terremoti anche lì non è colpa dell'uomo il terremoto arriva improvviso però ci sono poi negligenze nei soccorsi nelle comunicazioni e noi cerchiamo di metterli tutto questo di metterlo in evidenza linea alla regia ma restate sintonizzati sul 264 del digitale terrestre perché torniamo tra pochissimo e si aggiunge al dibattito anche la nostra compagna di viaggio la psicoterapeuta e giornalista Barbara Fabbroni per capire anche no entrare nell'animo di chi ha perso delle persone care in quella tragedia di rigopiano come a casa micciola e soprattutto anche per chi è rimasto eh sotto le macerie per tante tante ore poi nella parte finale vi faremo anche ascoltare una testimonianza in tal senso torniamo tra poco e ben ritrovati da Fabio Camillacci secondo capitolo di crimini e criminologia continuiamo a parlare di quella che è stata la tragedia di Rigopiano la strage di Rigopiano il processo ha preso il via dopo una fase iniziale particolarmente complicata e ne stiamo parlando con due avvocati della parte civile l'avvocato Gabriele Germano e l'avvocato Romolo Reboa ma eh come avevo anticipato si è giunta in collegamento come spesso facciamo qui a crimini e criminologia soprattutto per i primi due capitoli la dottoressa Barbara Fabbroni buonasera e bentornata dottoressa grazie buonasera a lei e ai suoi ospiti buonasera psicoterapeuta e giornalista avrà sicuramente già seguito il primo capitolo soprattutto da lei è chiaro anche nella veste giornalistica così come il sottoscritto e l'avvocato Reboa avrà associato poi la tragedia recente di Casamicciola di Ischia a Rigopiano a tante altre tragedie del passato sia dal punto di vista però psicoterapeuta diciamo così da psicoterapeuta soprattutto ecco vorremmo sapere da lei quello che eh ad esempio prova una persona perché è capitato nella tragedia di Rigopiano che perde affetti cari sotto le macerie sotto quella massa di neve della valanga che si abbatté sull'hotel Rigopiano e lui è lì per molte ore sotto eh le macerie a fianco a il corpo della moglie morta poi lui fortunatamente si salva ma che shock di che shock parliamo dottoressa? Beh che dire come dicevate prima le due tragedie sicuramente hanno dei punti di di contatto di similitudine significativa insomma prima l'avvocato citava il fatto che sembrava proprio questa quella slavina no? Che comunque sembrava accumulare le due cose che dire una persona che si trova a vivere a stare sotto un mucchio di neve a un mucchio di macerie per tante ore con la moglie accanto morta purtroppo questo credo che sia un dolore una tragedia che lo porterà avanti per tutta quanta la vita cioè è diciamo così un trauma così profondo così lacerante che si incide nella sua personalità nella sua esistenza nel suo futuro perché comunque segna il suo futuro quel tipo di presente sarà comunque le fondamenta che progetterà il suo futuro e sarà un futuro piano di dolore e di sofferenza certo è bisogna uscirne bisogna trovare la forza comunque di reagire a quella situazione elaborandola sicuramente chi ha vissuto questo avrà avuto anche un supporto psicologico psichiatrico e sarà stato accompagnato all'elaborazione di questo lutto ma è pur vero che sono tracce indelebili nella personalità di un individuo restano incise lì e ogni volta per qualsiasi piccola cosa c'è sempre rimando a quell'esperienza come se la vita da quel momento in poi si tramasse e cuscisse all'interno di quei fili sdrusciti che è stata proprio quella esperienza lì purtroppo questo è l'accadere della vita oltre al sicuramente alle vittime primarie che sono quelle che hanno perso la vita come ha citato lei ci sono poi le vittime che anche riescono no a uscire fuori da questa drammaticità poi ci sono tutta un'altra serie di vittime che sono le vittime secondarie e le vittime terziarie che sono tutte quante legate comunque da uno shock ed è quello shock che si trama all'interno di ciascun riferimento di ciascuna persona che vive questo dramma perché questo non va mai dimenticato perché purtroppo oltre alla vittima primaria che è quella che perde la vita c'è anche una vittima che comunque riesce a uscire fuori dalla tragedia ma ci sono le vittime secondarie che sono la famiglia che sono le persone che assistono a questa tragedia ma ci sono anche le vittime terziarie che sono i sofforitori che vivono questa tragedia in presa diretta e a volte hanno come dire anche l'incapacità a salvare no una persona quante volte anche all'interno dei terremoti che avete citato ci sono persone che sono ancora vive ma non riescono fino all'ultimo a tirarle fuori da quella situazione quindi è una tragedia che dilaga all'interno di tutta una rete umana incredibile ed è chiaro che la traccia indelebile la lascia e è difficile rifusirla ecco mi hanno segnalato dei messaggi di nostri telespettatori per gli avvocati e poi ce n'è uno di complimenti nello specifico per la dottoressa Fabroni ma ci andiamo dopo prima con l'avvocato Gabriele Germano volevo cercare di capire quelli che sono appunto abbiamo anticipato qualcosa prima sui tempi no? Prossime tappe che sono imminenti per altro. Prossime tappe prima il collega Rebba diceva che è esaurita le discussioni della quasi totalità delle parti civili ne residuano infatti tre quattro forse cinque che discuteranno e rassegneranno le conclusioni il 14 dicembre e eventualmente si prolungherà il 15 e il 16 ma non credo che ve ne sia la necessità poi vi sarà un due udienze o meglio due settimane con tre udienze ciascuna settimana dedicata alle discussioni degli imputati e si dovrebbe giungere alla sentenza perlomeno al dispositivo di sentenza alla seconda settimana di febbraio. Invece l'avvocato Romolo Rebo ha chiedo se quelle che sono state le richieste dell'accusa vi hanno soddisfatto diciamo in toto? Ma diciamo che salvo alcune posizioni tre o quattro per i quali noi avremmo ritenuto che forse valutando anche quelle ulteriori carte avrebbero dovuto essere dei giudizi più pesanti indubbiamente comunque le accuse ci si pongo. Invece io mi permette siccome quando intervengo nelle trasmissioni qualche cosa di non preparato lo debbo sempre introdurre mi piacerebbe introdurre se posso un tema come la dottoressa Fabbroni. Prego. Allora dottoressa rispetto agli aspetti psicologici penso che sarebbe interessante soffermarti a quello che è il post processo. Nel caso delle famiglie di Rigopiano e anche nel caso di varie altre mega tragedie vediamo che si creano dei comitati, vediamo che si stanno creando dei comitati di grandi vittime e in questo momento il processo, la fase del processo sono cinque anni che le persone familiari vengono in aula, vengono con le magliette dei propri cari, affrontano e stanno vivendo ancora con i loro cari. Quando si spegneranno per i riflettori di questo circo mediatico psicologicamente lascio a lei la parola. Cosa succederà? Per me ho delle mie idee. Sentiamo la dottoressa molto interessante questa osservazione. Certo certo assolutamente. Beh lo ha detto anche lei no? Nella prima parte del dell'intervento che è stato cioè i soldi non vanno poi a risanare quello che è la ferita di una perdita di un lutto. Adesso sicuramente in questi cinque anni perché questo è il periodo di questo processo c'è sicuramente la voglia, la lotta, no? Il familiare vuole comunque riscattare e come dire eh riportare quasi tra virgolette in vita con la soluzione di un processo comunque giusto e corretto quello che è la memoria del proprio defunto, del proprio caro scomparto. Poi come ha detto giustamente lei nel momento in cui le luci si spengono quindi tutto questa situazione comunque si conclude che cosa resta? Allora resta innanzitutto il ricordo della persona cara quindi tutto quello che si è vissuto prima della tragedia ed è lì che le persone familiari devono comunque aggangiare il ricordo. Poi resta quella frattura, quel terribile evento che ha travolto quella vita o quelle vite che quindi ha portato in un territorio desolato del nulla dove l'unica soluzione, l'unico viatico percorribile era quello di trovare la soluzione attraverso la legge, attraverso la giustizia e quello che state facendo voi avvocati. Poi resta quello che dal piedora del momento che le luci si spengono a quello che sarà poi il futuro. Ecco, lì allora ha una una funzione come dire di sostegno e passatemi il termine anche tra virgolette di mantenere in vita e ricordo i vari comitati che si sono creati, quindi forse che i comitati non lasciarli lì in conclusione ma portarli avanti, avanti fare qualcosa in memoria di quelle vittime e continuare a farlo nel percorso della vita stessa perché è l'unica cosa che mantiene come dire in vita la persona che non c'è più e quel ricordo, quella sensazione di perdita e di smarrimento può trovare per così dire un nutrimento, un'appartenenza e anche un tendere la mano all'altro alle persone che in un momento futuro in una situazione futura possono soffrire per una determinata situazione, comunque riaggangiarsi, tendere la mano all'altro, mai dimenticare, mai lasciare che il tutto si concluda con le luci che si spengono nel momento in cui il processo è concluso perché quello sì che diventa una lacerazione profonda e quel ricordo può diventare un trauma per la persona stessa, quindi portare a come dire una sorta di depressione, una malinconia costante, un vuoto smarrente che non ricuce quella ferita. L'importante è continuare a costruire qualcosa in memoria delle vittime. Ecco, io posso... No, volevo sapere appunto soddisfatto della osservazione. Sì, volevo, se il tempo ci lo consente, soffermarmi su un'altra cosa che incredibilmente è una cosa opposta al mio ruolo, però sono prima di tutto un avvocato, sono un difensore. Ogni processo sarà probabilmente il processo di Ligopiano, anche se abbiamo formulato l'accusa e riuniamo che l'accusa dei pubblici ministeri nei confronti di tutti gli imputati sono delle richieste di condannare, ma l'esperienza si insegna. Ogni processo ha qualche l'uno che viene assolto e ci può essere anche qualche l'uno che venga assolto, anche perché è innocente. Dobbiamo ricordarlo che tra l'altro è la presunzione di innocenza e la nostra presunzione costituzionale. Allora, essere accusati per tanto tempo, avere un avvocato Rebo, un avvocato Germano e tante persone che ti stanno accusando davanti alle televisioni o altro, per pensare anche un attimo a queste persone penso che sarebbe giusto, parlando di crimini di criminologia, parlando di situazione psicologica, credo che una parola sia doverosa a dare alle persone che accuso, diciamo. Anche questa è una giusta osservazione, lo prenderò presto in co-conduzione l'avvocato Rebo a dottoressa Fambroni, perché è avvocato però ha uno spirito giornalistico niente male. Assolutamente. Sono anche giornalista. Ah, ecco, allora avete svelato l'arcano. Prego. Certo, beh, certo, assolutamente. È vero anche che chi viene accusato vive un percorso, come dire, non facile. Comunque, qui la situazione, se parliamo di Rigopiano, come può essere anche la situazione che è accaduta a dischia, sono situazioni che vanno sul filo del rasoio, perché comunque è vero che la natura, tra virgolette, sia ribellata, ma è anche vero che la situazione in cui sono stati costruiti questi edifici erano situazioni precarie. Io oggi, mentre pensavo, dico, beh, in fondo, se noi pensiamo, scusatemi anche questa citazione, nel 79 dopo Cristo, quando è successa la tragedia di Pompei, cioè all'epoca non c'erano gli strumenti per poter dire, ok, questa è una situazione, cosa possiamo fare o non possiamo fare? Cioè, non c'era neanche qualcosa che poteva dire, guardate, potrebbe accadere che qui il dramma è che c'è comunque tutta una, come dire, una situazione, ci sono dei reperti, ci sono comunque, voglio dire, degli studi che possono dire il territorio è adatto, è meno adatto, non è adatto, i sopporti devono arrivare o non devono arrivare. È pur vero che, è vero che le persone anche che vengono accusate attraversano un momento di difficoltà, però è anche vero che sicuramente una piccola responsabilità, loro ce l'hanno e devono fare conti con quella responsabilità. Non è mia abitudine puntare il dito contro le persone perché io credo che molte volte possiamo incappare anche in degli errori in buona fede, però è anche vero che bisogna ognuno di noi prenderci le responsabilità che abbiamo, perché non so se vi ricordate la telefonata in cui avete, l'avete anche citata, tra l'altro chiedevano aiuto. Sì. E sostanzialmente venivano prese un po' con superficialità insomma, voglio dire. E poi, insomma, è sotto le occhi di tutti quello che è accaduto. Quindi è chiaro che nessuno punta il dito contro nessuno, però è anche vero che le vittime ci sono, i familiari delle vittime ci sono, la sofferenza c'è. Questo non va assolutamente dimenticato. Ecco, volevo ricordare, anche perché poi vi faremo sentire la sua drammatica testimonianza a proposito della persona rimasta per ore sotto le macerie della tragedia di Rigopiano, Giampaolo Matrone, che fu salvato dopo 62 ore sotto le macerie, ha vissuto 62 ore lì sotto, accanto appunto a sua moglie, che era deceduta. Peraltro voglio anche ricordare, visto che l'ha chiamata in causa ben due volte l'avvocato Reboa, che sono arrivati complimenti espliciti alla dottoressa Fabroni con questo incipit di Carlotta che ci scrive da Bologna, che ringraziamo e salutiamo, la terribile colpa di essere sopravvissuti, parla proprio di questo. Questo messaggio peraltro è arrivato prima della osservazione fatta dall'avvocato Reboa. Grazie alla dottoressa per l'intervento toccante, ecco dottoressa, i suoi interventi colpiscono. Grazie, ringrazio anche Carlotta. E invece all'avvocato Germano e poi sento anche ovviamente su questo l'avvocato Reboa, il messaggio di Paolo da Venezia, mi ha colpito molto perché torniamo indietro nel tempo e parliamo di un'altra tragedia terribile, quella del Vajonte. Paolo da Venezia dice, io sono miracolosamente sopravvissuto alla tragedia del Vajonte, volevo chiedere agli avvocati, ma perché in Italia si affronta l'emergenza solo quando poi c'è la tragedia, ci sono i morti e i buoi sono fuggiti dalla stalla, avvocato Germano. Purtroppo è una costante nel nostro paese questo. E spesso o per colpa, per Icopiano, come ricordava l'avvocato Reboa, si parla di colpa, o per dolo, negligenza e superficialità, si pensa che le leggi e la burocrazia siano poste lì solo per rendere più difficoltoso l'esercizio di alcune condotte umane, nel caso di Icopiano, attività imprenditoriale, nel caso del Vajonte e di Ischia, altre cose, ma in realtà se vi sono delle leggi, se vi sono delle leggi cui si è tenuti a sottostare e che vanno rispettate, è proprio per evitare che si verifichino tragedie come questa, dove purtroppo a quella superficialità, a quella inosservanza iniziale, solo dopo che si verificano delle tragedie e vi sono delle vite umane che sono state sacrificate, allora si fa una marcia indietro e si dice forse abbiamo sbagliato qualcosa e interviene solo una volta che, come diceva lei, i buoi sono usciti dalla stalla. Come sottolineava appunto l'amico Paolo da Venezia, che ringraziamo, abbracciamo, perché poi quella è stata una tragedia, 9 ottobre 1963 e lì un pezzo di montagna venne giù e andò a finire nella diga, nel bacino della diga e veramente milioni di metri cubi d'acqua invasero, cancellarono tante località della zona. Se vogliamo anche con l'Avvocato Rebbo a rispondere a Paolo. Vede Paolo, la dottoressa Fabroni ha ricordato una cosa, che c'è il Vesuvio, e c'è il Vesuvio ma ed è un vulcano che è tecnicamente ancora attivo e noi speriamo che non faccia, non abbia quel colpo di tosto che ho avuto io prima, perché sotto le casse ci sono, non ci dovrebbero stare risorse. Allora, perché se noi viviamo in una concezione, in un paese, di una situazione di legalità diffusa, di una sfida della natura, tanto sono passati duemila anni, perché deve succedere? Perché c'è un vulcano, non semplicemente può succedere perché c'è un vulcano e noi lo ignoriamo. Io ricordo, andando a sciare con i vecchi maestri, ricordo una volta che disse, con questi maestri, parlando di un sciatore che era stato trovato morto e recuperato dopo, quando le nevi si erano sciolte, la montagna vuole sempre le sue vittime. Questo fatalismo è drammatico, invece perché funzionano i soccorsi? Perché i soccorsi funzionano perché gli italiani sono delle grandi persone, sono delle persone che a questo punto si muovono, il soccorso è un fatto attivo, è un comportamento attivo, è un comportamento di reazione. Viceversa la prevenzione è un qualche cosa che diceva forse non è necessario, avimmo a campare, potremmo parlare per il nord e noi abbiamo parlato ad esempio di Rigopiano perché poi c'è un aspetto di una persona che non è mia assistita ma che non posso non pensare a quella donna, a Paola Tomassini, che ha vissuto per quasi 60 ore, lì ha mandato i messaggi, sapeva che stava per morire e nessuno è intervenuto. È un aspetto di questa tragedia che siccome i colleghi che la difendono sono stati meno mediatici di noi probabilmente, forse perché poi alla fine è morta lo stesso rispetto agli altri, è stata accumulata la parte delle vittime. Io penso, io penso, non riesco a pensare che ogni volta che entro in quel processo a non pensare anche a quella donna. Penso il dramma che si possa passare lì dentro, aspettare, aspettare al freddo, aspettare che qualcuno arriva e qualcuno non arriverà. Cioè c'è stata una grossa problematica di ericotteri che dovevano partire e non si sono alzati ma questo non esiste, questo fosse un altro processo. È un'altra storia. Intanto Alessio Dancorra ci sta continuando a far vedere in parallelo fatti recenti la tragedia di Casamicciola e immagini che invece riguardano la tragedia di Rigopiano. Visto che altri ora ci hanno chiesto di approfondire, non abbiamo lo spazio perché poi magari ne parleremo, approfondiremo anche quanto avvenne nel 63 rapidamente ricordo 1917 morti ci furono per la tragedia del Vaillont nel neobacino idroelettrico artificiale del torrente Vaillont nell'omonima valle che è al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto quando una frana precipitò come dicevo prima dal soprastante pendio del Monte Toc nelle acque del bacino alpino realizzato con l'omonima diga e la conseguente trascimazione dell'acqua contenuta nell'invaso con effetto di dilavamento delle sponde del lago coinvolse prima Erto e Casso paesi vicini alla riva dello stesso lago dopo la costruzione della diga mentre il superamento della diga stessa da parte della vera e propria onda generata provocò l'inondazione e la distruzione totale degli abitati del fondo valle Veneto tra cui Longarone e dicevo 1917 morti 487 persone morte avevano meno di quindici anni quindi una terribile tragedia ringraziamo Paolo per avercela eh ricordata è chiaro che per quanto mi riguarda trattando spesso anche di storia non solo storia del crimine storia d'Italia ne abbiamo parlato spesso per le conclusioni dottoressa Fabroni a proposito di questo che purtroppo diciamo un fatto ricorrente eh nel nostro paese no lo hanno evidenziato ecco poi gli organi di informazione si scatenano quando avvengono tragedie come quella recente a Casamicciola e ci informano che la gran parte del nostro territorio è a rischio è a rischio idro dissesto idrogeologico ma perché l'uomo poi ha ha il suo ruolo nello stuzzicare la natura eh beh certo sicuramente ha fatto degli interventi che sicuramente non dovevano essere fatti o non devono essere fatti questo dovrebbe comunque stimolare ancora di più l'attenzione e porre l'attenzione quindi avere una cura maggiore rispetto a tutte quelle situazioni a rischio come ha ricordato l'avvocato cioè alle basi del Vesuvio ci sono tantissime abitazioni cioè non arriviamo veramente al fatto che possa nuovamente dar vita a un'eruzione ritrovarci nuovamente a riparlare di un'altra tragedia forse vale la pena adesso in questo momento di guardare a tutte le situazioni al limite che ci sono e porre rimedio per quello che è possibile perché comunque ripeto dal mio punto di vista oggi abbiamo tanti strumenti per poter valutare e poi soprattutto fermare tutto quello che è comunque anche un edilizia una modalità comunque di costruzione o di deturpare un territorio in cui gli equilibri poi vengono comunque messi in forte crisi e ci ritroviamo di fronte a queste situazioni. Grazie. credo che a questo punto prego prego mi scusi no credo che a questo punto stia veramente all'uomo no alle persone che hanno cura e sono professionisti e stare attenti e comunque controllare bene tutte queste situazioni. Non la vedevo c'erano le immagini del dramma di Rigopiano quindi non sapevo se aveva finito o meno. Grazie per questa domenica dottoressa Fabroni. Ci rivediamo domenica prossima. Grazie a voi. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Un saluto naturalmente anche dei due avvocati. Siamo alle conclusioni. Volevo sentire ecco l'avvocato Gabriele Germano aspettative per quanto riguarda poi quello che sarà l'esito di questo processo. C'è ottimismo da parte vostra? Le aspettative sono come in ogni processo ci saranno dei condannati e degli assolti in in occasione mi pare del precedente intervento del collega Rebbe in questa trasmissione che era parlato o era in gestazione una perizia da parte di tre professionisti, una perizia disposta dal giudice, dal gruppo di Pescara la quale ovviamente ha evidenziato una serie di condotte commissive ed omissive e sulla base di quelle che sono le risultanze di questa perizia poi si snoderà tutto il percorso argomentativo della sentenza del Tribunale di Pescara che con le motivazioni dovrà a secondo i nostri calcoli pervenire poco prima dell'estate del 2023. E chiudo con l'avvocato Romolo Rebbe, rispetto alla prima puntata che dedicamo alla tragedia di Rigopiano, lo abbiamo detto in apertura, lo possiamo ribadire in chiusura, finalmente c'è un processo che sta andando a conclusione, noi realizziamo anche un servizio sempre con Aurora Vena dicendo un processo che non è mai praticamente iniziato, all'epoca era così. Si conclude il processo ma non si conclude la vicenda giudiziaria, anzi iniziamo un'altra perché da questo processo sono stati escluse una serie di enti, ci sono delle responsabilità che sono civili e sono sicuramente estremamente gravi perché i colleghi che difendono gli imputati discuteranno la responsabilità o meno del presidente della provincia ad esempio di Pescara, se lui sia responsabile o meno della circostanza in cui la strada era chiusa e le vittime sono rimaste lì dentro prigioniere, ma difficilmente la provincia come ente potrà ritenere di andare a soltare nel processo civile che subito dopo noi inizieremo. Alcuni sono già iniziati i proposti ma i processi civili che inizieremo si baseranno sulle responsabilità di chi era proprietario, di chi ha consentito come società, come enti, cioè con delle responsabilità che sono diverse, alcune delle quali sono emerse dagli atti processuali di questo processo e alcune sono meramente civili, quindi la vicenda giudiziaria si chiude diciamo un capitolo, un capitolo molto molto importante della partita e se ne apriranno altri altrettanto importanti e copriranno nel portafoglio chi effettivamente doveva fare non è stato fatto. Chiudo ricordando che la regione Abruzzo è riuscita dopo che l'evento si è verificato in un anno a fare una carta delle valanghe che aveva previsto da una legislazione mi pare del 1992, se non vado errato. Esattamente, quindi era possibile farlo, è dovuta cambiare la giunta, questo lo diranno la parte politica, merito al Presidente Marsiglio di averlo fatto, ma sicuramente al di là di questi meriti c'è da domandarti perché, perché, perché in tanto tempo e non può essere, queste carenze di perché, come abbiamo detto in aula, non possono essere dire soltanto malagessio, malapolitica, ripeto le parole del Pubblico Ministero, bisogna capire e ripeto anche a chiusura le parole, chi cercava di capire, Falcone che diceva che bisogna seguire il denaro. Esattamente, i piccioli, lui diceva esattamente che bisogna seguire i piccioli. Grazie all'avvocato Romolo Reboa e all'avvocato Gabriele Germano per essere stati con noi questa sera a parlare della tragedia di Rigopiano e del processo. Poi ovviamente ci rivedremo direttamente nel 2023 per vedere quello che sarà poi stato l'esito delle sentenze. Grazie a tutti e due e buon lavoro naturalmente. Grazie, grazie. Grazie di aver bisogno. Noi tra poco voltiamo pace, ma poi ci torniamo su Rigopiano, torniamo su Ischia. Tra poco però torna un appuntamento molto seguito, quello che riguarda crimini nei cieli. Oggi vi sveleremo come, a proposito sempre di prevenzione, di prevenire qualcosa, gli attentati dell'11 settembre 2001 si potevano evitare, si avrebbero potuti evitare se gli Stati Uniti avessero seguito determinate piste o indagato di più, seguito alcuni percorsi. Ne parliamo tra poco con l'esperto sicurezza volo Antonio Bordoni. A tra poco. Tutto pronto per un altro capitolo di crimini e criminologia. E questo è un appuntamento praticamente fisso di quello che è crimini e criminologia su Cusano Italia TV. La chiave di volta. Possiamo vedere il titolo di oggi. Un titolo che ovviamente si lega a quello che è il tema principale di questa puntata. Ne abbiamo parlato nei primi due capitoli della tragedia di Rigopiano, della tragedia di Ischia e di Casamicciola. Uomo criminale la natura si ribella. E ovviamente adesso cerchiamo di entrare più nel dettaglio, nel merito soprattutto a proposito dei sopravvissuti, delle varie tragedie, delle famiglie che restano e che piangono i propri cari. Ma anche, questo è un tema che abbiamo lanciato nei primi due capitoli, chi si ritrova a processo così? Perché magari per una negligenza, per essere stato un po' troppo superficiale, ha causato una determinata tragedia, non volendolo fare apposta. Oppure per chi ha fatto delle cose, ha costruito degli edifici laddove non bisognava costruire nulla. Come sempre, per quanto riguarda la chiave di volta, Antonella Elena Rossi, stasera l'avvocato Elisabetta Aldrovandi. Ben ritrovata. Grazie e buona serata. Buonasera, buonasera a Fabio, a te e a tutti i tuoi telespettatori. Come sempre ricordo le due che ci curano questa bella rubrica, la chiave di volta, la psicologa e criminologa e appunto l'avvocato che è presidente, quindi molto, diciamo, questo ruolo importante per i temi che andiamo a trattare, no? Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime. Ecco, ne abbiamo parlato nei primi due capitoli e abbiamo voluto mettere insieme ai sopravvissuti, i familiari delle vittime, anche chi poi si ritrova a processo, suo malgrado, no? Avvocato. È importante evidenziare che comunque anche chi poi va alla sbarra, comunque per lui è un calvario, no? Anche se proprio non è che è un assassino, non è che è uno che ha voluto quel dramma, però ha commesso degli errori. Sì, assolutamente sì. Poi chiaramente per quello che riguarda Rigopiano ho letto appunto che vi sono 25 richieste di condanne per oltre 150 anni di carcere complessivi, ma in questo caso effettivamente la tragedia è stata una vera e propria strage, 29 vittime e diciamo che uno degli errori più gravi è proprio stato quello di non tenere in debita considerazione gli allarmi, le richieste di aiuto che furono fatte sostanzialmente fin dalla mattina. I capi di imputazione, come dicevi giustamente tu, sono tutti di origine colposa. C'è omicidio colposo, lesioni colpose, disastro colposo eccetera. Perché? Perché il nostro codice penale chiaramente distingue i reati indolosi e colposi e diciamo che i delitti vengono considerati sempre e comunque dolosi, cioè commessi con coscienza e volontà da parte del soggetto, tranne nel caso in cui siano specificatamente previsti anche nella versione diciamo così colposa. E così noi abbiamo l'omicidio volontario che è l'omicidio doloso ma abbiamo anche l'omicidio colposo, cioè che è quello cagionato non perché il soggetto vuole uccidere qualcuno ma per colpa, negligenza o imperizia, per disattenzione. L'omicidio per esempio stradale che viene commesso perché la persona non è ubriaca o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ma perché per esempio sta guardando il cellulare o ha superato il limite di velocità o ha oltrepassato un incrocio col semaforo rosso è proprio un omicidio colposo, classico omicidio colposo. In questo caso chiaramente nessuno voleva il disastro di Rigopiano, neanche chi ha costruito quell'hotel, quell'albergo in parziale di formità ai permessi di costruzione, nessuno mai si sarebbe immaginato e neppure mai accettato il rischio che questo potesse succedere. Però è successo allora nel momento stesso in cui accade la tragedia è ovvio che se sussistono delle responsabilità di natura colposa perché qualcuno non ha vigilato a dovere quando avrebbe dovuto vigilare, non ha intervenuto quando sarebbe dovuto intervenire o comunque non ha attuato o rispettato tutte quelle norme che si dovevano rispettare nelle fasi della costruzione è giusto che sia punito ovviamente. Ecco intanto andiamo anche a rivivere quel calvario terribile di Giampaolo Matrone, ne parlavo prima, salvato dopo 62 ore sotto le macerie. Un anno dopo quella tragedia di Rigopiano, che ricordo era gennaio 2017, disse è una guerra e devo vincerla. Fu l'ultimo Giampaolo Matrone a essere soccorso. La sua testimonianza. Vediamo. Credo che Rigopiano è una battaglia, forse è pure poco, è una guerra perché combattere contro quelle persone è veramente una guerra. Mi sento proprio in dovere di portarla a termine, di vincere questa guerra, da marito nei confronti di Valentina e da papà nei confronti di Gallia. Il guerriero si chiama Giampaolo Matrone ed è l'ultimo sopravvissuto dell'hotel Rigopiano. Lì sotto, tra macerie, tronchi e neve, ha passato due giorni e mezzo prima di essere salvato. Lì, sotto l'albergo maledetto di Farindola, travolto da una valanga che si è mangiata a 29 persone, Giampaolo ha perso la moglie, a un metro da lui prima del buato e mai più rivista. Un anno dopo, la rabbia è ancora potente, animata dalla convinzione che quei morti si potevano evitare e spinta dalla voglia di esserci per la figlia Gaia. Per me questa tragedia si poteva evitare in tre modi. Uno, quell'hotel non doveva essere costruito là, prima cosa. Seconda cosa, ti do un'altra possibilità. L'hai costruito con sottefuggi, con cose sporche, burocratiche e va bene. Chiudilo quei giorni. Non l'hai chiuso? E ancora un'altra possibilità. Mi hai pulito la strada per salire e non me l'hai pulita per scendere. Noi proprio abbiamo aspettato la morte. A noi ci hanno scortato nella morte la sera prima. Ci hanno pulito la via della morte, la strada, per andare su e per non tornare più a casa. Terribili queste parole di Giampaolo Matrone, ricordo, salvato dopo 62 ore. L'avete sentito sotto le macerie e perse sua moglie in quella tragedia di Rigopiano. È una guerra, devo vincerla. Ora abbiamo sentito i due avvocati di parte civile che sono intervenuti nei primi due capitoli. Ci hanno detto che nel 2023, a febbraio, già si potrebbe arrivare a sentenza. E come ricordava prima proprio l'avvocato Elisabetta Aldrovandi, diciamo che i principali responsabili, in base alle richieste dell'accusa, sono il comune di Farindola, la provincia di Pescara, a cui si aggiunge il comportamento della prefettura e le mancanze amministrative gravi della regione Abruzzo. Intanto da avvocato, da presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, un suo commento sulle parole che abbiamo sentito di Giampaolo Matrone. Poi, in chiusura, vi faremo ascoltare una versione più lunga di quella bella intervista dell'ANSA. Avvocato. Ma, vedi Fabio, quando accadono queste tragedie, io ricordo quel giorno, quel 18 gennaio del 2017, ricordiamo che il processo di primo grado si chiuderà a distanza di oltre sei anni. Esatto, è giusto ricordarlo. Quindi, rendiamoci anche conto del problema che abbiamo, endemico e sistemico in Italia, delle lungaggine, delle lunghezze, dei processi. Questo è un processo particolarmente difficile, sicuramente, per mille e molteplici aspetti di cui avete, avrete sicuramente parlato nei blocchi precedenti. Però, sei anni per arrivare a un primo grado di giudizio può significare che, in parte, alcuni capi di imputazione che potrebbero anche arrivare con una sentenza di condanna, potrebbero in un futuro essere prescritti. Quindi, bisogna effettivamente cercare di accelerare il più possibile quando stiamo di fronte a questi reati. Le parole di Matrone sono le parole di un sopravvissuto, perché noi dobbiamo anche pensare ai danni psicologici, alle conseguenze non solo fisiche, ma anche psicologiche di chi sopravvive. Cioè, prova a immaginare rimanere 62 ore sotto una valanga di neve senza cibo, senza acqua, senza nulla, senza nemmeno la capacità di capire se si sopravviverà oppure no. Con la moglie a fianco, lui la sentiva era morta. Morta. Quindi, questi sono dei traumi che, da un punto di vista psicologico, io penso che siano insuperabili, accompagneranno la persona per tutta la vita. Quindi, ci sono anche questi aspetti che non troveranno mai un giusto risarcimento, un giusto ristoro. In più ci sono le persone uccise, le persone che hanno perso la vita, che quindi hanno lasciato dei figli piccoli, hanno lasciato delle mogli, dei mariti, dei genitori. Cioè, persone che mai si sarebbero aspettate, peraltro, di morire in un modo del genere, perché nessuna di loro era andata a svolgere un'attività pericolosa in cui comunque poteva mettere in conto di rischiare la vita o che qualcosa le sarebbe potuto succedere. Erano semplicemente andati in un hotel per un fine settimana sulla neve. Quindi, ma devo essere io, cliente, persona comune, ad accertarmi che la struttura alberghiera in cui vado sia assolutamente stata costruita conformemente alle regole, che nel caso di maltempo il comune sia attrezzato per spalare la neve, quindi farmi uscire dall'hotel in caso di necessità. Ma ci rendiamo conto? Cioè, qui ci sono state delle negligenze, purtroppo, a mio parere, molto, molto gravi. Una tragedia annunciata, praticamente, no? Anche quel video girato in modo amatoriale dallo stesso Matrone, no? Ci testimonia quella che era la situazione. Dice, abbiamo aspettato la morte, ha detto. Sì, 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 assolutamente. Perché poi, tra l'altro, quell'hotel, vedendolo dall'alto, è esattamente ai piedi di un canalone. Io, sinceramente, sono una persona assolutamente ignorante in materia, non mi intendo di problematiche idrogeologiche né di costruzioni, però io dico, ma com'è possibile costruire un hotel esattamente ai piedi di un canalone? E l'avvocato è anche un'appassionata di montagna, se non ricordo male. Sì, moltissimo, moltissimo. Io tutti gli anni vado in montagna, in particolar modo vado sulle Dolomiti in Val di Fassa, e anche la scorsa estate hanno recuperato, per esempio, dei ragazzi che sono partiti di notte per andare a fare un'escursione senza la guida, si sono perse, quindi l'elicottero è dovuto intervenire. Allora, vedi Fabio, in questo caso c'è una corresponsabilità da parte del turista, da parte del soggetto, perché chiaramente si avventura lui. Esatto, volontariamente, così come, guarda, io sono molto transciante sotto questo aspetto, io sono una camminatrice, in montagna vado veramente, insomma... Trekking. Esatto, cammino tantissimi in alta quota, anche delle salite molto ripide, eccetera. Quando vedo, non so, 2.500-3.000 metri, in percorsi anche difficili, persone con le sneakers, invece che con le scarpe da montagna, allora anche lì, io mi chiedo, ma se questa persona dovesse cadere e farsi male, ma possiamo dirlo che comunque in parte col responsabile del danno che subisce? Perché non è possibile avventurarsi in alta montagna con le sneakers? Cioè, ormai tutti lo dovrebbero sapere, cioè anche la consapevolezza è fondamentale. Certo, in casi, ovviamente, diciamo di persone singole, no? Questi casi che l'avvocato ha evidenziato. Poi ci sono casi che hanno fatto la storia, come, peraltro, prima un telespettatore ci ha scritto un sopravvissuto del Vajont, Paolo, da Venezia, ci ha ricordato quell'altra terribile tragedia che causò 2.000 vittime. Anche quella, avvocato, la ricorderà, ovviamente, da esperta, no? Di queste tragedie, un qualcosa che sconvolse, ma che soprattutto fu annunciato, perché basta leggere la storia del Vajont con le varie commissioni che andavano lì a valutare lo stato della montagna. Un pezzo di montagna che si stacca e finisce in un bacino e causa un'onda anomala che spazza via l'ungarone. È più di annunciato di quello e tutti dicevano che quella diga era pericolosa, no? Questo anche per tornare alla domanda del nostro telespettatore che ha detto ma perché in Italia poi ci si accorge del problema solo quando c'è il morto o ci sono i morti. Purtroppo è una costante nostra, non so se è nostra o possiamo estendere al resto d'Europa o è tipicamente italiana questa cosa, avvocato, dalla sua esperienza legale. Guarda, Fabio, ti posso solo dire che per quello che riguarda gli abusi, per esempio i dilizi, ad ampio raggio, ad ampio spettro, l'Italia è praticamente un'unica in Europa. Non esiste nessun altro stato d'Europa il percentuale di edifici parzialmente o totalmente abusivi che abbiamo in Italia. Perché è importante affrontare questo tema quando si parla di problematiche e rischio idrogeologico? Perché l'Italia pensa che il 18,4% dei comuni in Italia è ad altissimo rischio idrogeologico. Cioè quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando si decide il piano regolatore, quando si decide dove si può costruire e dove non si può costruire, lo si fa non per fare un dispetto a una zona, a una persona piuttosto che ad un'altra, ma lo si fa semplicemente perché noi siamo pieni di terreni, territori molto fragili, a rischio frane, a rischio alluvione, dove abito io per esempio, è una zona sismica a cui abbiamo avuto il terremoto nel 2012 ed è una zona ad alto rischio... Quindi nell'Emiliano, Reggio Emilia, ed educo dalla data di terremoto. Provincia di Modena. E tra l'altro è una zona ad alto rischio alluvione. C'è stata una grossa alluvione nel 1959 e una nel 2014. Quindi è chiaro che anche qui bisogna pensare dove si costruisce. È chiaro che se le persone poi costruiscono in spregio alle regole, confidando nelle sanatorie, nei condoni, purtroppo quando si verifica il disastro come può essere un'alluvione o una frane, è chiaro che le case che sono costruite su un territorio in cui non sarebbero dovute essere costruite possono venire travolte. Perché voglio ricordare, Fabio, questo aspetto fondamentale, che sanatoria legale non significa sanatoria idrogeologica. Cioè il fatto che una casa, un edificio venga condonato per legge non significa che in quel posto può stare ed è sicuro. Hai fatto bene, ha fatto bene l'Avvocato a sottolineare questa cosa. Ci sono anche dei messaggi, adesso lo giriamo, il prossimo all'Avvocato Elisabetta Aldorovrandi, ma andiamo verso le conclusioni. A proposito dei rimborsi, adesso vedremo l'esito poi del processo. Giustamente l'Avvocato sottolineava a gennaio sei anni dalla tragedia e dopo gennaio prossimo si dovrebbe arrivare alla sentenza di primo grado. Poi ci saranno gli appelli, c'è la Cassazione. Giustamente il discorso della prescrizione mi ha molto colpito prima, e non sarebbe la prima volta che accade in storia di questo genere, nella storia d'Italia. Però volevo tornare ai rimborsi, perché nel gennaio scorso, nel gennaio 2021, non nel gennaio scorso, solo una tranche dei 10 milioni di euro previsti e largiti attraverso un bando come aiuto e non come sorta di risarcimento vittime di Rigopiano. Sulla base di un protocollo che fu ideato per la strage del treno Corato Andria nel 2016, quando nell'incidente ferroviario morirono 23 persone. Andiamo a vedere il servizio dell'ANSA in proposito. Sono stati versati nei mesi scorsi i primi ristori per gli eredi delle vittime della tragedia di Rigopiano. Erano stati annunciati nel gennaio 2019, dall'allora ministro degli interni Matteo Salvini e in poco meno di due anni i primi aiuti sono arrivati ai parenti delle 29 vittime del risol di Farindola. Era il 18 gennaio 2017, quando una valanga staccatasi dalla montagna travolse l'hotel e uccise 29 persone. È solo una tranche dei 10 milioni previsti, elargiti attraverso un bando come aiuto e non come sorta di risarcimento, sulla base di un protocollo che fu ideato per la strage del treno Corato Andria del 2016, quando nell'incidente ferroviario morirono 23 persone. Una gabbia che ha tenuto conto di parametri che fin qui hanno permesso di assegnare 6 milioni, l'ha deciso una commissione fatta dai sindaci dei comuni delle vittime con i funzionari del biminale. La restante cifra verrà versata successivamente ed è allo studio se al fondo possano accedere anche i superstiti. Al momento per ogni vittima è stata stabilita una cifra intorno ai 200 mila euro. Anche la restante cifra complessiva verrà assegnata con un bando. Non sono ancora stabiliti né i ristori INAI per i lavoratori morti sul lavoro né le altre posizioni parentali. La partita dei ristori e cioè del destino civile della vicenda segue una strada parallela rispetto al penale. Il processo riprenderà il prossimo 5 marzo a Pescara e dopo la deposizione delle trascrizioni del cosiddetto depistaggio ormai inserito nel fascicolo principale inizierà la vera parte dibattimentale. Ricordo, era un servizio dei fatti del gennaio 2021. Infatti, si faceva riferimento alla ripresa del processo a marzo del 2021. poi altri slittamenti anche diciamo forse in questo queste lungaggine inciso e molto l'avvocato potrà confermarmelo il lockdown da Covid la pandemia no avvocato ne parlammo anche con l'avvocato Reboa qui in studio udienze da remoto era difficile. Per chiudere però volevo girarle una interessante osservazione di Milena che ci scrive da Roma al 334-92-29-505 vado a sintetizzare che è un messaggio molto lungo ma in sintesi è questa la sintesi è questa che ci faccio dei soldi tanto un mio caro non me lo ridà più nessuno questo è il senso di Milena che ha scritto questo messaggio però è chiaro avvocato i rimborsi fanno parte di tragedie di questo genere ma nel momento stesso assolutamente sì nel momento stesso in cui una persona perde la vita o rimane gravemente lesionata in seguito a un evento dannoso è chiaro che non si può riportare in vita chi non c'è più non si può far tornare tra virgolette alla normalità che ha subito una lesione irreversibile gravissima quindi l'unica forma di ristoro è quella del risarcimento danni oltre chiaramente a un'eventuale detenzione in carcere per un certo periodo di tempo per la persona responsabile ora è chiaro che nel processo penale i familiari delle vittime avranno potuto costituirsi parte civile per avere comunque una provvisionale o un risarcimento del danno che ricordiamoci per quello che riguarda il processo penale è sempre parziale poiché poi la liquidazione definitiva solitamente viene fatta con un separato giudizio civile ricordiamo anche questo caro Fabio che tutte queste azioni di richiesta risarcitoria da parte delle vittime chiaramente non sono azioni a carico dello Stato hanno ovviamente delle spese da sostenere giustamente ci sono delle spese da sostenere e quindi sarebbe molto molto importante che i risarcimenti fossero soprattutto tempestivi e veloci almeno come un anticipo di pagamento del danno perché chiaramente non tutti hanno la possibilità di affrontare anni e anni di processi prima di poter ottenere un risarcimento ecco per chiudere l'osservatore nazionale sostegno vittime ha avuto modo di occuparsi anche di tragedie del genere immagino per sostenere le vittime allora noi sosteniamo ogni genere di vittime abbiamo avvocati al nostro interno che si occupano appunto di assistere anche coloro che subiscono questo genere di tragedie e ti posso dire Fabio che sono veramente delle tragedie come dicevo prima da cui difficilmente si riesce a uscire io ho conosciuto il papà di una ragazza che è morta nella tragedia nella strage di Viareggio ti ricorderai bene quello che è successo nel 2009 anche qui purtroppo buona parte dei capi di imputazione sono andati prescritti a cui ti posso dire che lui da anni sta combattendo e ha combattuto per avere giustizia per la figlia ed è un uomo che ha votato la sua vita esclusivamente alla battaglia per la giustizia tralasciando da parte qualsiasi altro aspetto quindi anche questo è fondamentale c'è una persona che vede la propria vita stravolta in seguito a una tragedia del genere perché ha perso un figlio o una moglie o un marito dedicherà la maggior parte della sua vita a cercare quella giustizia che purtroppo gli è stata negata quindi è anche giusto che quella giustizia arrivi in tempi veloci perché io non trovo giusto che adesso queste persone debbano affrontare processi audio di tribunale per moltissimi anni per decenni prima di poter mettere la parola fine da un punto di vista giudiziario la tragedia che le ha colpiti grazie all'avvocato Elisabetta Aldro Vandi per essere stata grazie a voi con noi ci rivediamo presto con la chiave di volta che però mi è sfuggito la chiave di volta mai diciamo più che mai in questo caso è la prevenzione evitare tragedie del genere assolutamente sì la prevenzione è la sensibilizzazione da parte di tutti cioè ricordiamoci noi cittadini che nel rispetto delle regole capire l'importanza comunque del rispetto delle norme anche di lize e soprattutto anche da parte di chi costruisce attività commerciali e le istituzioni che devono davvero investire a medio lungo termine nella prevenzione dirò una cosa impopolare cioè darà poco consenso da un punto di vista politico ed elettorale però salva tante vite quindi conviene veramente investire nella prevenzione eh sì ma evitiamo no ha ragione un po' come eh il nostro patron presidente dell'università Niccolò Cusano che è coordinatore nazionale di alternativa popolare proprio questo ha detto basta passerelle basta proclami elettorali ma fatti concreti condivido per evitare Ischia Casamicciola così come Rigopiano perché poi ogni anno si verifica qualcosa di questo genere in Italia in determinati periodi dell'anno grazie all'avvocato Elisabetta Aldorandi ci rivediamo presto ricordo presidente dell'osservatorio nazionale sostegno vittime tra poco andiamo in Ucraina sempre che l'elettricità o altre situazioni riescano appunto a consentire a Irina Gulei di mettersi in collegamento la nostra corrispondente per aprire un altro osservatorio quello sui crimini di guerra in Ucraina quei crimini commessi dai russi che hanno scatenato una guerra che ormai va avanti da quasi un anno dal febbraio del 2022 tra poco arriveremo al febbraio 2023 quasi un anno di guerra quindi tra poco il collegamento con l'Ucraina restate con noi